Musica Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della conclusione della festa di Sant'Agata che è rientrata in cattedrale intorno a mezzogiorno con notevole ritardo rispetto al previsto si è trattata di una grande festa come ci racconta nel servizio che segue Guenda Carozzo Il fiume di Sacchi di colore bianco taglia la folla da via Garibaldi al suono delle campane tra sventoli di fazzoletti, lacrime e applausi E' quasi mezzogiorno quando il Fercolo attraversa Piazza Duomo a Catania Sant'Agata, il suo ultimo saluto alla città dopo il giro interno quello che ieri è partito toccando i punti di una festa ancora una volta partecipatissima E' andato tutto splendidamente bene, mi rendo conto per carità Poteva anche andare meglio perché poi ci sono quelli che desidererebbero e lo comprendo perfettamente poterla vivere secondo degli orari che più consentono la loro partecipazione ma in una festa che vede la presenza di decine e decine di migliaia di fedeli, di devoti di persone anche solamente interessate a vedere la Santa non si può accontentare tutti, è normale Allora cerchiamo di valorizzare gli aspetti oggettivi Partecipazione come mai nel passato E' un ordine, una compostezza che difficilmente si è riscontrata nelle edizioni precedenti E questo è il condensato di quel che sta rendendo questa festa veramente straordinaria C'è una macchina organizzativa impressionante da una parte il comitato dall'altra anche le manutenzioni, la nettezza urbana C'è davvero un sistema che se dovesse vacillare anche solo uno degli ingranaggi davvero tutto potrebbe saltare Invece non è stato così Ha accolto perfettamente Io posso dire che tutti, tutti sono stati bravissimi L'unico che non c'entra niente con questa organizzazione è il sindaco I fuochi d'artificio allo stop davanti alla cattedrale L'emozione palpabile tra la folla composta anche nelle ultime fasi di rientro Il busto estratto dal fercolo adornato da garofani bianchi così sono dal giorno della solennità della festa Un giro lunghissimo rallentato nei tempi con la sosta su piazza Borgo quasi all'alba e il canto delle monache benedettine su via Crociferi in tarda mattinata fino ad arrivare a mezzogiorno qui Un saluto ancora del busto che si rivolge alla folla prima di incamminarsi verso la cameretta Con quale emozione vede rientrare la santa oggi? Diciamo con dovere a cuore Ho già detto Attendeva questa festa da tempo? Abbastanza Per noi ogni giorno è la festa con lei Tutti 365 giorni dell'anno Quest'anno la festa è stata molto partecipata i tempi si sono allentati però c'è stata tanta compostezza Esatto perché siamo sempre composti in questa festa Sono stati raccolti gli invidi a essere quanto più civili E noi li accettiamo Come sarà ricordata questa festa? Bellissima come sempre L'è durata un po' troppo? No, per noi no, ce la teremo tutto l'anno fuori E' andata bene? Tutto perfetto Da devoto? Troppo bene Tutte cose perfette Un rientro quasi prima di mezzogiorno? Buono Buono Così ci andiamo a riposare dopo tre giorni di non stop E' finita la festa Rientrata la santa in cattedrale Iniziate subito le operazioni di pulizia della cera Dalle strade di Catania Cannelli e ramazze per staccare via Ceresegatura che hanno ricoperto le strade di Sant'Agata L'obiettivo è mettere in sicurezza le arterie viarie E farlo il prima possibile dopo il passaggio dei grandi E piccoli ceri portati dai devoti Che hanno reso visci dalla pavimentazione basolata Qui all'opera davanti alla statua di Garibaldi Su via Etne all'altezza di via Umberto I mezzi meccanici raccolgono le montagne accatastate ai margini delle strade Mentre gli uffici comunali si raccordano in modo da ripristinare le condizioni di normalità Tra le 24 e le 48 ore Siamo con l'assessore alle manutenzioni del comune di Catania Giovanni Petralia Si lavora senza sosta da quando praticamente Sant'Agata ha cominciato il giro esterno Anche questa mattina operai e mezzi sul campo Come si sta intervenendo e qual è la tabella di marco? Sono stati dei giorni molto molto intensi Di grande lavoro, di grande sinergia tra i vari uffici In questo momento si stanno intraprendendo le attività di pulizia Dopo appunto il fatto anche che molte strade, molti marciapiedi sono pieni di cera Quindi si sta svolgendo un'attività in sinergia con le aziende che raccolgono i rifiuti Con la polizia locale per i controlli e la viabilità E noi come manutenzioni con le attività di transennamento e tanto altro Quindi le operazioni in questo momento si stanno svolgendo nella parte alta di via Etnea Quindi dove già il tradizionale percorso si è concluso ieri sera Per andare via a scendere fino a Piazza Duomo Dopo ancora la festa è in corso e quindi si attende il rientro di Sant'Agata C'è un vero e proprio tappeto di cera ma anche di segatura Per cercare di attutire la scivolosità, la viscosità di questo materiale Esattamente, la segatura è stata sparsa ieri Prima del percorso interno su via Etnea Adesso si sta raccogliendo la cera e quindi anche la segatura Sul percorso stradale e anche l'attività di raccolta dei rifiuti in generale Perché purtroppo la gente ha lasciato un po' in giro di tutto Visto i milioni di persone, migliaia di persone che ieri erano in giro Quindi spero che tra oggi e domani riusciamo a completare tutto E a lasciare nuovamente la città in ottime condizioni Sempre in sinergia con l'ufficio di gabinetto del sindaco Il sindaco Enrico Trentino che ci chiede praticamente ogni minuto Novità e notizie sullo svolgimento delle operazioni Diciamo quindi che già domani sera la situazione Comunque dopo domani mattina la situazione dovrebbe essere di nuovo tornata alla normalità Le operazioni giustamente subiranno un'accelerazione Visto e considerato che la folla tornerà a casa Quindi si potranno muovere gli operatori con maggiore facilità Quindi credo che tra stasera e domani mattina Possiamo tutti tornare nuovamente alla normalità Avremo adesso un'ampia pagina di cronaca Riferito all'omicidio a Paternò Un marocchino fortemente indiziato del delitto È stato bloccato a Milano dai carabinieri Nei suoi confronti la procura etnea aveva emesso un provvedimento di fermo Sentiamo Mario Grasso Marocchino senza fissa dimora 36 anni è stato fermato a Milano Mentre tentava di raggiungere la Francia È fortemente indiziato Dell'omicidio del connazionale Mohamed Muna trovato morto lo scorso 4 febbraio Nei pressi di un distributore di benzina Siamo alla periferia di Paternò Le indagini dei carabinieri di Catania Hanno portato allo stato di fermo a Milano Dell'uomo che pare sia stato catturato alla stazione Garibaldi I carabinieri di Catania pare lo abbiano individuato Attraverso delle indagini Nel luogo del delitto poi Gli luoghi precedentemente frequentati dall'indiziato Che sarebbe stato successivamente rintracciato a Milano Grazie a delle ricerche telematiche Pare che l'omicidio sia avvenuto a seguito di una lite Finita, coltellate e di cui ancora Non si conoscono con esattezza i perché I carabinieri di Paternò Con il supporto del SIS Hanno lavorato costantemente Battendo tutte le piste Poi attraverso una serie di indicazioni Hanno privilegiato la pista che ha portato Verso il 36N che nel frattempo Aveva lasciato la Sicilia Per raggiungere Milano Dove alla stazione è stato catturato però Dai militari dell'arma Meneghini Noi suoi confronti Era già stato richiesto Un uffermo dalla procura di Catania E' stato bloccato Mentre saliva su un treno intercity In direzione del confine francese E torniamo anche sulla brutta vicenda Relativa allo stupro Venuto alle Villa Bellini di Catania Sei dei sette egiziani indagati Restano in carcere Il settimo è stato posto a domiciliare Per il procuratore aggiunto Ardita La vittima ha dimostrato Di non volere vendetta Ma giustizia Dei sette egiziani indagati Per lo stupro alla Villa Bellini di Catania Uno solo Da ai domiciliari Gli altri sei restano in carcere Ieri il GIP per i minorenni Aveva emesso ordinanza di custodia cautelare Per i tre minori Oggi il GIP di Catania Ha ordinato la custodia cautelare Anche per tre dei quattro maggiorenni Il quarto ai domiciliari Ma con il braccialetto elettronico Il provvedimento ha accolto la richiesta Del procuratore aggiunto di Catania Sebastiana Ardita Della sostituta Anna Trinchillo Che indagono sullo stupro Ai danni della tredicenne Vittima di violenza Di gruppo alla Villa Bellini di Catania Per il GIP Carlo Umberto Cannella Appare evidente Che sussista il pericolo Di reiterazione del reato Anche alla luce del fatto Che l'orrore ha avuto fine Solo grazie al tentativo Della ragazza di liberarsi E che alla base Della personalità degli indagati Pocabbezzi Al vivere civile Appare probabile Che in assenza Della disperata reazione La terribile violenza Sarebbe proseguita Anche a opera Di altri indagati Motivazione chiarissima Ma anche pesantissima Quella vergata Dalla GIP Nel provvedimento Con cui convalida Il fermo Ed emette ordinanza Di custodia cautelare Nei confronti Dei quattro maggiorenni Per il giudice Delle indagini preliminari È indicativo Della personalità Degli indagati Che bloccano il fidanzato Diciassettenne della vittima L'avere agito Agevolando E consentendo Ad altre persone Di violentare Una ragazzina Di appena tredici anni Senza un minimo rimorso Anzi In alcuni casi Assistendo alla scena Le dichiarazioni Della vittima La ricostruzione Dei carabinieri Hanno composto Una sequenza Davvero abominevole Il GIP Quindi ritiene Sussistere Le esigenze cautelari Alla luce Della personalità Degli indagati Autori Di un'azione Che non può Che suscitare Orrore Che indica Un livello estremo Di una loro Pericolosità sociale Se in carcere Tre minori Tre maggiorenni Il quarto maggiorenne Va ai domiciliari Con il braccialetto elettronico In considerazione Del fatto Che si è presentato Spontaneamente Ai carabinieri Fornendo elementi utili Alle indagini Intanto Non si spegne L'eco Di quanto Accaduto Alla villa Bellini Di Catania Ultimo In ordine di tempo Arriva una nota Di sinistra italiana Che chiede Che il sindaco Ponga fine All'abbandono Della villa Mentre Relativamente Alla personalità Della vittima Il procuratore Aggiunto Sebastiano Ardita Oggi su Rai 2 Parla di una ragazza Serena Determinata E ferita Ma desiderosa Di giustizia Senz'altro Più matura Della sua età Non desiderosa Di vendetta E senza rendersi Disponibile A riconoscimenti Incerti Questa ragazza Detardita Vittima Di un grave reato Ha dato esempio Di obiettività Reagendo Avendo fiducia Nella giustizia Andiamo adesso Nella messinese Estorsione Truffe E danni Dell'Unione Europea Stamattina Maxi operazione Delle forze Dell'ordine Congiunte Contro il clan Mafioso Di Tortorici Appunto Nella messinese Sui nebri Di 23 le persone Arrestate Di queste 21 sono finite In carcere Mentre due Ai domiciliari Il blitz Che ha visto insieme Carabinieri del Ross Guardia di Finanza E squadra mobile Di Messina È scattato Stamattina all'alba La maxi operazione Denominata Nebrodi 2 Ha inflitto Un duro colpo Al potente clan Mafioso Di Tortorici Famiglia che Secondo gli inquirenti Avrebbe concentrato La propria attività illecita Nella zona messinese Dei Nebrodi Dall'inchiesta È emerso Un quadro inquietante Un numero Elevatissimo Di truffe aggravate A danno Dell'Unione Europea E della GEA L'agenzia italiana Per le erogazioni In agricoltura Sono in tutto 37 gli indagati Ritenuti appartenenti Alla famiglia mafiosa Tortoriciana Diversi I reati contestati Loro a vario titolo Associazione di stampo Mafioso Associazione dedita A produzione Traffico di stupefacenti Estorsioni Trasferimento Fraudolento Di valori Truffe aggravate Per il conseguimento Di erogazioni pubbliche Riciclaggio E autoriciclaggio Malversazioni Di erogazioni pubbliche Tentata Violenza privata Carabinieri Guardi di finanza E polizia Hanno eseguito 21 ordinanze Di custodia cautelare In carcere Due agli arresti domiciliari E 14 ordinanze Interdittive Della sospensione Dell'esercizio Di attività imprenditoriali Che legittimino La presentazione Di stanze Di contributi Comunitari O statali Il blizzo Odierno Segue La maxi operazione Nebrodi Messa a segno A gennaio Del 2020 Che smantellò Un gigantesco Sistema Di interessi criminali Sui fondi europei E che portò All'arresto Di oltre 100 persone Per 91 Degli arrestati Il 31 ottobre Del 2022 I giudici Del tribunale Di patti A conclusione Del processo Di primo grado Hanno emesso Una storica sentenza Infliggendo Complessivamente Oltre 600 anni Di reclusione La nuova indagine Si avvalza Anche Delle dichiarazioni Di tre collaboratori Di giustizia Che facevano parte Del gruppo mafioso Dei batanesi Ad essere emersa E l'operatività Della famiglia mafiosa Di Tortorici Guidata Dai Bontempo Scavo E dai batanesi Contestualmente All'esecuzione Delle misure cautelari Personali Le forze dell'ordine Hanno eseguito Il sequestro preventivo Di ben 349 titoli AGEA Definiti tossici Ovvero Acquisiti In maniera fraudolenta Polizia Carabinieri E finanzieri Hanno sequestrato Inoltre Più di 750 mila euro Da conti Di otto società Somme Che sarebbero Derivanti Dalle truffe Aggravate Per il conseguimento Di erogazioni pubbliche Riguardanti Le campagne agricole Tra il 2015 E il 2020 E ad Acireale In riferimento A una recente Sparatore Arrestato dai carabinieri Il presunto killer Autore appunto Di quanto avvenuto Della sparatoria Di venerdì scorso In cui è rimasto ferito Ad una mano Un 29enne La lite 32 Sarebbe scaturita Da questioni Sentimentali Sentiamo E' stato catturato Ad Acicatena Dai carabinieri Dal comando Compagnia Di Acireale Sottoposta A fermo Di polizia Giudiziaria E condotta Al carcere Di piazza Lanza Catania Salvatore Rapisarda 33 anni Pluri Pregiudicato Indiziato Dal reato Di tentato Micidio A danni Di Antonino Maugeri 29 anni Raggiunto Da un singolo Colpo di arma Da fuoco Da fuoco Alla mano Al culmine Di una violenta Litia A quanto pare Scaturita Dei presunti Rapporti Sentimentali Intrattenuti Dal rapisarda Con la sorella Della moglie Di Maugeri Sfociata Nella sparatoria Di venerdì scorso Avvenuta A piano d'api Borgata Di Acireale Nella frazione Di Guardia Mangano Gli investigatori Avevano rintracciato Il 29enne Ferito Da un singolo Colpo di pistola Dei cinque Esplose Dal presunto Killer Con il quale Da tempo I rapporti Erano piuttosto Tesi In seguito Alle insistite Avanzi Nei riguardi Della cognata Diciottenne Della vittima Hanno ricostruito Gli inquirenti Gli investigatori Dell'arma Sono venuti a capo Del fatto di sangue A fatica Si è affermato Che il ferito Al momento Negano ogni addebito Nel quartiere Teatro Della sparatoria Si è alzato Il solito muro Di omertà Altri due Esergetti Risultano indagati Per favoreggiamento Della sparatoria Gli inquirenti Sono stati allertati Da una telefonata anonima Scattate le indagini Maugere È stato individuato A guardia Mangano Mentre era ancora A bordo dell'auto Con una vistosa ferita Alla mano Interrogato Avrebbe riferito Di essere scivolato Su un oggetto Contundente Procurandosi Il vistoso taglio Scortato in ospedale Del carabinieri E affidato Alle cure dei sanitari Che hanno confermato La compatibilità Con il ferimento D'arma da fuoco La svolta Alle indagini Con la cattura Del presunto sicario È reperibile Deve nel discorso Il quale Ha negato ogni responsabilità E per questo motivo È stato sottoposto A fermo Andiamo adesso A Palermo Le immagini Del sistema Di videosorveglianza Mostrano nuove retroscena Sulla violenta Aggressione Avvenuta Allo scorso novembre I danni Della buttafuori Della discoteca Country Di Palermo Presi a calci A pugni Da un gruppo Di minorenni Vediamo Sono le immagini Riprese Dalle telecamere Di videosorveglianza Del locale A fare chiarezza A mostrare Cosa è avvenuto La notte Del 26 novembre Scorso Quando si è verificata La violenta aggressione Davanti l'ingresso Della discoteca Country Di Palermo In Viale dell'Olimpo Quella notte Un gruppo di minorenni Del quartiere Zen Quattro giovani Tra i 16 E i 17 anni Pretese di entrare Nel locale Senza pagare il biglietto Minacciando I buttafuori Arrivando allo scontro fisico Con calci Pugni Schiaffi E transenne Lanciate Contro l'ingresso I fatti Si sono verificati Poco prima Delle due di notte Vicino al botteghino Della discoteca I quattro minorenni Attualmente indagati Per tentata estorsione Finiti in comunità Su disposizione del GIP Iniziarono A minacciare Gli addetti E la sicurezza Che nel frattempo Tentarono Di respingerli Fate centrare Altrimenti Vi ammazziamo tutti Vi facciamo chiudere Il locale Ancora Dobbiamo prendere Il ferro in macchina Sono alcune delle frasi Proferite Dai quattro indagati A distanza di mesi La pubblicazione Delle riprese Del sistema Di videosorveglianza Mostra alcuni particolari Da quell'angolazione È chiaramente visibile Il gruppo di giovani Che scavalca Le pareti Dell'area di filtraggio L'intenzione È quella di entrare A tutti i costi Lo scontro fisico È preceduto Da un lungo Tire e molla Fino a quando Dopo varie minacce La tensione aumenta Ed esplode la violenza I minorenni Scaricano Una raffica Di calce E pugni Contro i buttafuori Che incassano i colpi Mentre cercano Di allontanarli Gli organizzatori Chiamano il 112 All'arrivo Delle forze dell'ordine C'è il deserto Nel giro di pochi mesi Gli investigatori Del commissariato San Lorenzo Sono riusciti Ad identificare I giovani Dalle risultanze Delle indagini Convergono I racconti forniti Dai vari addetti Alla sicurezza Ascoltati Subito dopo i fatti Con quanto Mostrano Le telecamere Di sorveglianza Secondo il procuratore Del tribunale Dei minori di Palermo Claudia Caramanna C'è un totale Senso di importanza Unità da parte Dei giovani Che pubblicano Tutto sui social Vantandosi Di ciò che fanno E lo divulgano Fra il 2022 E il 2023 Riferisce Caramanna C'è stato un incremento Del 40% circa Relativo Alle iscrizioni Di minori In ordine A reati Contro la persona Come percosse Lesioni Risse Violenze sessuali Anche il gruppo Stalking Minacce Tentati omicidi E omicidi I finanziari Del comando Provinciale Di Messina Hanno sottoposto A sequestro Cinque chili Di asci E tratti In arresto In flagranza Due corrieri Che trasportavano Lo stupefacente Durante il controllo Ad un autobus Di linea Appena sbarcato Dal treghetto Provinente Da villa San Giovanni Grazie al fiuto Del cano Di droga Edipo I militari Hanno individuato Uno zaino Sospetto All'interno Vienono 50 panetti Di stupefacenti Occultati Nella borsa Di un ragazzo Di origini Somale Che viaggiava Unitamente Ad un suo Con nazionale Provinente Da Bologna Uno dei due Privo di qualsiasi Documento Di riconoscimento Risulta anche Illegalmente presente Sul territorio Dello Stato In quanto Sprovvisto Di qualsiasi Titolo Di soggiorno La droga Avvolta nel cellofan Per cercare Di contenerne Il forte odore Riportava un'etichetta Con la curiosa scritta Forza Napoli Evidentemente Per ricondurla Ad una determinata Qualità Il narcotico Venduto al dettaglio Sulle piazze Di spaccio Avrebbe potuto fruttare L'organizzazione criminale Destinatale Oltre 50 mila euro Armi e droga I carabinieri Di Siracusa Hanno smantellato Una organizzazione Criminale Non affiliata Ai clan Attiva Tra Cassibile E Canicattini Bagni Sono sei Le misure cautelari Eseguite dai carabinieri Di Siracusa Tra la città Retusea Palermo E Pesaro Urbino Nell'ambito di un'operazione Contro un nutrito Traffico Di armi E droga I provvedimenti Restrittivi Uno In carcere Tre Gli arresti Ai domiciliari Due I soggetti Con obbligo Di dimora Sono stati emessi Dal giudice Per le indagini Preliminari Del tribunale Di Siracusa Le indagini Coordinate Dalla procura Hanno svelato L'esistenza Di un gruppo Autonomo Dalle cosche Non riconducibile Dunque ad alcun contesto Di criminalità Organizzata Che si era specializzata Nel commercio Di droga Ma anche di armi Nella frazione Di cassibile Oltre che A canicattini Bagni Nel siracusano Nel corso Dell'attività D'indagine I carabinieri Hanno sequestrato Diversi quantitativi Di sostanza stupefacente Cocaina Ashish Oltre ad armi da fuoco Illegalmente detenute Con relativo Munizionamento Per tutti L'accusa A vario titolo È quella Di traffico Di sostanza stupefacente Porto E utilizzo Di arma Comune Da sparo Ricettazione Di armi Detenzione Abusiva L'indagine Che è durata Diversi mesi È stata poi Eseguita Anche con L'ausilio Dello squadrone E riportato Cacciatori Sicilia Dei carabinieri Oltre che Dalle compagnie Di Pesaro Urbino E Palermo Piazza Verdi E dopo Questa pagina Dedicata Alla cronaca Parliamo invece Del terremoto Del 2018 Consegnato All'impresa Giudicataria I lavori Di riqualificazione Della chiesa Di Santa Venera A Santa Venerina Danneggiata E chiusa Al culto Appunto Dall'epoca Del terremoto Del 2018 Novità Anche per le aree Delocalizzate E i ritardi Nel lavoro Di ricostruzione Degli edifici Privati Nel territorio Di Zafferano Etnea Consegnati Lavori di riqualificazione Messe in sicurezza Della chiesa Di Santa Venera Di Santa Venerina Danneggiata E chiusa A culto In seguito Al terremoto Nel 2018 Stavani Nella struttura Commissariale Dieci Reale La firma Del contratto Alla ditta Incaricata Alla presenza Del direttore Dell'ufficio Bene Culturale Della diocesi Don Angelo Vilone E del parco Della chiesa Di Santa Venera Don Giovanni Marino Il fondo Disposto Da commissario Estraordinario Per la ricostruzione Salvatore Scalia Monta 1.185.000 euro I lavori Una volta Completati Ristituiranno La piena Fluizione Del luogo Di culto Per il quale Sono stati Pianificati Interventi Di sistemazione Del tetto Della lavata Centrale E dei grandi Muri perimetrali Che verranno Rafforzati Con speciale Tecniche Di consolidamento Strutturale In grado Di reggere Nuove eventi Tellurici In un territorio Attraversato Della paglia Nota Sin dall'antichità Il sindaco Di Santa Venera Santo Recite Esprime La propria Soddisfazione Per il ripristino Dell'edificio Sacro Oggi è un giorno Importante Per la nostra Comunità Paesana Un giorno Che con la Sottoscrizione Dell'atto Che è avvenuto Stamattina Segna Ufficialmente L'inizio Di una Ricostruzione Di una Messa in Sicurezza Della Chiesa Madre Di Santa Venerina Questo È stato Un edificio Che è stato Fortemente Danneggiato Dal terremoto Del dicembre 2018 Soprattutto Nella struttura La copertura La volta Della navata Centrale E che grazie Ad un decreto Firmato Dal dottore Salvatore Scalia Il nome Per conto Della struttura Commissariale Ci ha concesso Un finanziamento Di 1.185.000 euro Che ci permetterà Di sanare Le ferite Che l'edificio Ha subito In seguito Al sisma Nel corso Dell'incontro Annunciati Importanti Interventi Nelle aree Delocalizzate Degli immobili Danneggiati Dal sisma Già abbattuti Nella frazione Le cesi 10 platani Questi spazi Assegnati Al comune Ospiteranno Parcheggi Aria verde E parchi giochi Per i più piccoli Tutti coloro Che hanno avuto Una delocalizzazione In quell'area Hanno tutti Un immobile Quindi ringraziamo La struttura Commissariale E lo Stato Perché con celerità Ha ridato A queste persone Una casa Adesso ci rimane Chiaramente Una frazione Con delle criticità Nel senso Che ci sono Questi appezzamenti Terreni Vicino alle faglie Dove non si può Ricostruire Che quindi Danno l'idea Della desolazione Del terremoto Grazie all'ordinanza Del commissario Abbiamo acquisito Questi terreni Adesso verranno Riqualificati Sicuramente In molte Verranno realizzate Delle aree di sosta In caso di terremoto Delle piazze E perché no Anche delle aree giochi Vicino Diciamo La scuola Il commissario Scali ha annunciato Nel pomeriggio Di giorno 8 febbraio Un'assemblea Nella parrocchia di Fleri Frazione terremotata Di Sanferrano e Tennea Al fine di risolvere Le diverse criticità E i ritardi Sulla ricostruzione Per il giorno 8 Alle 17.45 A Zafferana A Fleri Nei locali Della parrocchia Svolgeremo Un'assemblea Che io ho convocato In quanto La ricostruzione privata Di Zafferana Soffre di ritardi Bisogna vedere Di superarli E li supereremo Facendo incontrare I tecnici Dei terremotati I tecnici Del comune Perché noi Pratiche in attesa Praticamente Non ne abbiamo In maniera Da far sì Che si riescano A risolvere In qualche maniera Il blocco Che in alcuni casi Si verifica Per difformità edilizia Che in qualche maniera Devono essere superate Eclatante protesta Stamattina Di un commerciante Da Cicastello Vediamo Nel servizio Il perché Si è incatenato Davanti Il suo negozio Perché rischia Di abbassare presto La sala cinesca Ad A Cicastello In pieno centro In via Martino 168 Il titolare Il titolare di una Salumeria Sono arrivato Alla disperazione Non sappiamo più Cosa fare Non ho neanche Come fare Scaricarmi la merce Perché hanno messo Baletti Non c'è Uno scarico Merce Non c'è Ho provato A rintracciare il sindaco Ci sono carabinieri Vigili urbani Ma il sindaco Non si fa neanche vedere L'amministrazione Non c'è Non si fa vedere nessuno Non si fa sentire nessuno E io sono obbligato Può essere anche A chiudere l'attività Come farà A far scaricare la merce Non c'è Dovremmo bloccare il traffico Dovremmo bloccare il traffico Anche per uno scarico Di 20 minuti Bloccheremo il traffico Non c'è altro Se no Devo chiudere l'attività O quello O quello Non c'ho altro da fare E' una protesta Che ha fatto lei solo E gli altri commercianti Della zona I commercianti Io li ho chiamati Li ho chiamati tutti in causa Ma nessuno è venuto qua Forse solo un'attività Si è messa qua Canto a me Ma per il resto L'ho fatto anche da solo Perché lo faccio Per il mio lavoro Sto lottando per il mio lavoro E non gli interessa niente Neanche l'amministrazione comunale Quante sono le famiglie Che lavorano nel suo negozio? Noi siamo quattro Quattro famiglie E dobbiamo vedere Ora come organizzarci Perché giustamente Fra quello che arriva Di energia elettrica Fra le tasse che ci sono Statali Le tasse comunali Vediamo dove si arriva Dopodiché Dove posso arrivare Arrivo Dopodiché si può chiudere Anche l'attività Ha provato a suggerire Delle soluzioni? Non è venuto nessuno Non si presenta nessuno Io ho provato a parlare Anche con il sindaco Ma non si presenta Hanno provato a chiamarlo Anche le autorità Non si presenta Non c'è Non c'è nessuno Vedete? Non ci è Ma quale sono le soluzioni Che lei proporrebbe? Solo un carico e scarico merci Almeno un carico e scarico merci Almeno per poter lavare Solo beni di prima necessità C'è una parafarmacia C'è un alimentare Con l'annessa macelleria Dove un carico e scarico Dovebbe essere sul posto Ma niente E adesso andiamo a Giarre Dove un gruppo di imprenditori Che fa parte del mondo Degli spettacoli viaggianti Ha voluto contribuire al decoro Nel cuore cittadino Ripristinando Parliamo di Piazza Duomo A Giarre Il Selciato Impegnandosi anche a preservarlo Durante i prossimi eventi Che avranno per palcoscenico Il luogo tanto caro ai giarresi L'ultima pavimentazione della piazza Risale a circa 25 anni fa Adesso l'iniziativa Degli imprenditori locali Con la sostituzione Di una cinquantina di mattonelle C'è stato naturalmente Il plauso da parte Dei rappresentanti Dell'amministrazione comunale Adesso la pagina sportiva Con l'ennesima sconfitta Di misura del Catania Che ha ceduto Anche nel recupero odierno Sul campo del Picerno La classifica Resta abbastanza precaria Vediamo Ennesima sconfitta Di misura stagionale Per il Catania Che esce battuto Dal recupero Disputato Sul campo del Picerno Al termine di una partita In cui i rossazzurri Hanno avuto Le migliori occasioni Da rete Non riuscendo però A sfruttarle La prima di queste Capita sui piedi Di Tecio Che dopo aver recuperato palla Ad averlo scambiato Con Costantino Si fa contrare il tiro Al limite dell'aria L'equilibrio Rompe però il Picerno Alla diciannovesimo Quando Gallo Raccoglie una corte Respinta di Monaco E con un gran tiro Di controbalzo Pesca l'angolino Più lontano Con il portiere Albertoni Che si allunga Ma non ci arriva Il Catania Potrebbe pareggiare Subito dopo Ma Costantino Fallisce una ghiotta opportunità Dopo l'imbeccata Di Chiricò Per Bois Il cross in mezzo Si dispera il numero 9 Il Catania Continua a non pungere In attacco Nella ripresa Gli Etnei Potrebbero agguantare Il pari Ancora con Costantino Che non riesce A girare in rete Un pallone schizzato via Dalle mani di Summa Dopo un'efficace incursione Di Chiricò Sulla destra Lucarelli mischia le carte Effettuando i vari cambi Ma non basta La grinta di Castellini E Bois Tra i migliori in campo Con la manovra rossa-azzurra Che resta confusionale Da Bulica Nel finale Dopo alcune ripartenze Dell'Eppicerno Favorite dagli attacchi A testa bassa Della Catania E Castellini Ad avere la migliore opportunità Su calcio di pulizione Il suo tiro però Si spegne Ed un soffio Al di là Dell'incrocio dei pali Esulta il Picerno Che con questi tre punti Agguanta il secondo posto Solitario in classifica Il Catania Precipita sempre più Nonostante la rivoluzione Di mercato di gennaio E il cambio dell'allenatore Il risultato complessivo Non è purtroppo cambiato Non ci sono ulteriori aggiornamenti Vediamo dunque insieme Le previsioni meteorologiche Per domani Il meteo in Sicilia Nella giornata di mercoledì 7 febbraio 2024 Il sol splenderà soprattutto Nel centro dell'isola Nel Trapanese Qualche nube invece Sulla Sicilia orientale Nel Palermitano I mari saranno calmi Le temperature previste Con la massima Che si prevede A Siracusa 23 gradi 1 in meno 22 a Catania Con 11 di minima Vi ricordo che potrete seguire Questa edizione del telegiornale Sul sito reitv.it Sui nostri canali social Nel prossimo appuntamento Con le informazioni in diretta Rinviato a domani A partire dalle 14 Ringrazio Energia Carmela Fagone E vi auguro La più cordiale buona serata Arrivederci Grazie a tutti